La tappa di oggi, un applauso gigantesco, lei è Marta Bastianelli, Marta Bastianelli chiuderà Una carriera incredibile, Marta Bastianelli, Marta Bastianelli, faccio partite io, tu almeno salutare lo devi Grazie a tutti, sicuramente Per me è una giornata molto emozionante, ho dato molto a questo sport e spero che le mie compagne possano fare altrettanto Grazie